Sequestrato l'Apollo con lo scudo, un falso dipinto attribuito al Tiepolo sul mercato da almeno tre anni era stato più volte venduto e ricomprato, ma era appunto un falso e riprodotto nel 1950 così dalle analisi al carbone effettuate. La Guardia di Finanza di Venezia ha dato esecuzione su ordine della Procura di Treviso al sequestro del falso dipinto e che vede ora due persone indagate entrambe residenti a Treviso, ovvero il presunto autore del falso e colui che lo avrebbe posto in vendita. L'elemento peculiare che ha insospettito i finanzieri è stata la presenza di più accrediti di autenticità rilasciati sotto forma di relazioni peritali da esperti d'arte defunti, certificazioni che spesso sono utilizzate da falsari trafficanti d'arte per autenticare dipinti di pregio o comunque per nasconderne la dubbia provenienza.